E' me? Io proprio la cattura di me la! No Claudia, quella cattura! Jack, benvenuti in questo nuovo video! Noi siamo le ginezze del CSB e oggi cosa facciamo Miki? Viaggiamo. Dove? Andiamo a Firenze. Per la terza tappa di Serie A. Miki ma non lo sai? Si. No ti sei persa. Ma cosa hai da dirci? Niente. Ok. Che le altre sono... cioè non sono qui perché non ci stavamo e quindi sono un'altra macchina. Raga, come è stato il risveglio alle 6 stamattina? Tu Miki? No, il mio è bellissimo. Perché? Perché sentivo... ah! Vedi qualcuno che mi faceva così. Ma chi è? Ma guarda su. E c'era Giada. C'era la persica Giada. Cosa stai facendo Miki? 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 Col! Dai cosa stai facendo? C'è l'argomento della domanda. Ah, un TikTok. Miki? Dove siamo? In Autocry. A fare? Cosa stai facendo? No, papi? No, papi? Ciao! Vi abbiamo trovate! Franco! Si continua il viaggio! Ciao! Ciao! Siamo arrivate in albergo. Allora, la nostra stanza, tu è mia. E anche mia. Della Mikiol, infatti è della Faddina. Saluta Faddina. Fadda! Ciao! Allora, questo è il bagno. Hola! Ma perché noi abbiamo un palo in mezzo al bagno? Non lo so, però sembra che... Ma noi abbiamo il palo in ovunque, le stanze. Poi abbiamo il letto della Fadda e della Mikiol. Con già sopra le robe, scusate il casino. Ma siamo appena, appena, appena arrivate. Di nuovo, ciao! E il mio lettino. Con già le finestre aperte perché ci puzza di vecchio. Sì. Ciao! Siete venute rompere? Sì. Sempre. Com'è la vostra camera? È un guardo identica alla nostra. Davvero? Sì. Indovina dove dormo? Lì. Vabbè, ci sono me. La Leti dorme da sola? E la Giada l'abbiamo già persa? No, sì. Sì, sì, è persa. Allora, abbiamo appena finito di mangiare. Adesso ci stiamo preparando per andare a fare le prove. Giusto Fadd? Mh. Ok, me le vado. Ciao Miki! Sì. Bene. Ciao raga! Abbiamo appena finito l'allenamento. Adesso siamo appena arrivati in albergo. E lì c'è un'altra. Stiamo frugando nel sacchetto della gara. quale sono le medaglie di partecipazione. Adesso ci laviamo. Ancora. Salute esse! Perché puzziamo. Oh, il poster. E poi? E non dici che mangi l'alanas. L'alanas. Sì! E le pesche. Eh, le pesche. Sì. Ce ne abbiamo uguali le pesche? Oh raga dite le pesche o le pesche? Le pesche, le pesche, le pesche, le pesche. Le pesche. Io le pesche. Io le metto il pigiama però. Ma doveva scendere giù? Lo sai vero? Sì. E poi ti ricambi. Bravo Pod. Io no. Io no, infatti so. Vabbè, allora adesso ci prepariamo. Le altre sono nell'altra camera. Che stanno bene. E dopo ve le faremo vedere. Sì, forse. Se ne sono caput. Se fate i bravi, forse ve le facciamo vedere. Ciao! Ciao! Brava Michele. Più in giù il mento Michele. Vieni che mettono una tira su lei. Guarda. Guardalo. Guardala. Ehm. Hai vista? Buongiorno. Guardi la faccia, ecco. Bravissima Emma. Bravissima. Brava Emma. No, i ciuffi. Ce ne ho ancora. Vai, vai. Brava, brava. Vai Emma. Le girate. Emma, no. Guarda come è la gamba. E guarda questa qua. Ok? Dai, questo in mezzo. La mano. Ok? Così. Brava. E dai, guarda. 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 Buongiorno. Dai Emma. La faccia. Brava. Uguale. Dai eh. Vai Cattelina. Guarda. Guarda. Guarda la faccia. Ha visto morto. Sì. Guarda. C'ha la bocca che vuoi dire quanto mi fai. Gli occhi per me. Così dico il professore di Leonardo. Quando sono andata a... Dai. Vai. La faccia. Sì. No. Mi stessa. In mezzo. Ci siamo andati a Spinji. Guarda. Guarda guarda. Guarda. Guarda mi è spuntata Gosbio. Dai. Guarda. Guarda, vieni la faccia. St mintete, st bite. Mi hai spuntata a doi. Spenditi, spenditi, vada, vada. Vai! Bravissima! Concentrati! Hai la stessa espressione di quando fai il corpo libero. Vado a mettere di pressione. Per 10, 3, 2 secondi, dai, concentrati! Vai! Bravissimi! No, non l'ho visto, guarda la faccia, la faccia! Dai, tu sei, fammi vedere! Ma te lo stai guardando! Vai! Non so che di sto... Eh? Più vicino al ginocchio. Ma comunque è il 3. Britta la testa! Ma basta! Britta, un po' più un braccio al mento, Giada, e poi terrorizzata. Si è terrorizzata lei. Sembra che hai visto... Brava! Che è lì! Ma che non stai sulle due uova, eh? Letizia, questa è la faccia di quando devi fare testa a scuola. Quindi la sai fare bene. C'è qualcosa che cammina sul tavolo? C'è qualcosa che cammina sul tavolo? Ma è un moscerino! E' un formiclo! Vada, mi spaventata! Eh, ma vero? E' uno scherfaggio? Ma... E' tornato il body! Ah! E' tornato il mio papà! Ho detto che è tornato il body! Ah! Che stupido! Vabbè, è tornato il body perché per un momento non ce l'avevamo io e la Mikol perché dovevamo togliere degli Swarovski sul braccio sinistro per l'entrata alla trave. Io tutte e due! Ah, tutte e due? Io sì! Sì! E quindi Ferdi che è quello che ha fatto la linea dei nostri bellissimi body che se... Sì! Buonanotte! Che cosa è di mare? Prosciutta! Davvio! Prosciutta! Davvio! Prosciutta! Sì! 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 Ma Mikil! Ma tu che da ti svegli! Por cacchio mi ha dato la sveglia! Guarda le 8! Ma 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 ma! Poteva dormire ancora! Ma io non volevo solo sapere che ora ti svegliassi! Tu mi hai detto adesso! Allora io ti ho lasciato stare! Raga! Stiamo spiando le altre! Non si vedono più! Eccole! Sono la Mikil e la Lady! Che stanno facendo un tiktok! Vediamo il tiktok! Ottimo! Non metto a fuoco! Ok! Non le trovo più! Eccole! Quella da Lady! Mikil! Sei pronto? Sì! Bene! Siamo pronte? Sì! Sì! Ciao Fada! Ciao! Sei pronta? E tu Lady? Sei pronta? Sì! Vuoi raga? Dammi il camuno! Giadi! Sei pronta? Con chi ce l'hai? Con te! Con te! Ok! Si parte! Raga! Mi ha finito la gara! Eeeh! Com'è andata raga? Bene! E ridelo! Dai dai che è andata bene! Brava! Se vuoi faccio un bacino sopra! No scherzo! Io! No! Non la sporchi! Siete contente? No! Me lo lasci! Mi l'hai appannata! Fa niente! Fa niente! No! Comunque! Comunque! C'era i gatti? Com'è andata? Bene! Sei contenta? Mi fa male il braccio! Guarda! Tu sei contenta! Tupino! Hai messo le mani? Sì! Loro non mi cagano! Posso dire una cosa? Mi tremavano le chiappe! Comunque è andata! Io mi sono divertita e ho fatto bene! Ragazzi siete una squadra stupenda! Ma che siete? Siamo! E nel senso avete capito! Allora! Cioè nel senso! La capitana di questa serie A! Vogliamo parlarne? Ma non è vero! Parliamone! Parliamone! Che grande sei stata! Ciao mamma! Bene! Ora c'è Ferdi che ci aspetta! Sì! Ora andiamo da Ferdi! Ciao! Ciao!